guarda un po eccoci bello andrew buonasera a tutti ciao a tutti sì io ti sento tu mi senti perfetto io ti sento ti vediamo pure per traverso adesso aspetta no mi metto dritto allora aspetta eccoci bravo non è semplice perché ho il telefono un calcio tutti quanti dicono che sei ritardatario andrew ma in realtà io stavo provando a fare questa cosa col computer ma non è andata a buon fine quindi adesso ho preso molto il telefono ho detto prima che arrivo in ritardo come sempre eccoci qua ciao a tutti bene andrew bravissimo ce l'eravamo detto ce lo siamo promesso facciamoci un brindisi salute messina peroni alla nostra saluta ora faccio prima a far così allora io invito tutti i ragazzi che ci stanno seguendo chi può chi vuole chi bere una birra con noi virtualmente che è una cosa che ci manca tantissimo e che era uno delle cose che facevamo più spesso tutti insieme quindi il brindisi ovviamente è per per tutti quanti e andrea ti introduco per chi non ti conosce ma bene o male siamo tutti quanti amici andrea de luca è oltre che un mio caro amico una delle persone che sta in questo mondo almeno da quando io ho iniziato quindi parliamo di inizi duemila almeno ci sono tante cose che che si potrebbero raccontare ma in una diretta ovviamente bisogna un po andare a fermare c'è anche il vignode bella e quindi diciamo che dopo questo primo brindisi vorrei intanto sapere come avevo chiesto anche a cristiano ieri se te in questo periodo stai lavorando o meno no nel senso che sto in ferie dal 10 marzo in parte forzate nel senso che comunque l'azienda per cui lavora ha scelto giustamente di mandarci in ferie noi faccio io faccio account manager quindi giornalmente giro nei locali ho un sacco di appuntamenti vedo tante persone un pochino per una questione di sicurezza l'azienda ha preferito prevenire come si suol dire e quindi niente sono ormai una quindicina di giorni che sto a casa lavoro per quanto posso da gata nel senso che comunque c'è un continuo contatto telefonico clienti con quei pochi che sono rimasti aperti e niente adesso oggi momento di difficoltà il link l'ho mandato prima il link noi come azienda noi facciamo distribuzione di cibi americani messicani etnici in generale nella ristorazione quindi abbiamo pensato che visto che c'è un sacco di gente a casa che non riesce a fare spesa che deve fare file chilometriche abbiamo pensato che era giusto da una mano e adesso stiamo facendo le consegne pure a casa dei privati bravi ottima iniziativa poi tra l'altro sto per io sì sì una cosa carina secondo me è una cosa figa bene bene allora senti andrei io tutto bene come tutti stiamo a casa ovviamente il lavoro ci manca a tutti soprattutto perché siamo persone abituate a stare tutto il giorno in connessione con con altre che sia telefonica live da sempre in giro ed è la parte che mi manca di più oltre immagino alle chiacchierate con gli amici come te immagino questo è quello che più mi manca però ci teniamo compagnia così è arrivato il giama eh te lo volevo dire grande giama immancabile grande giama andrea addirittura oggi mi sono segnato le domande da farti madonna sì 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 oggi è un po' meno improvvisata di roba seria roba seria sì 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 va beh iniziamo grande gnamo grande giama grande paone grande matrizietto salutiamo tutti sì 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 più si aggiungono strada facendo vai vai dimmi dimmi tutto no no dici te raccontaci intanto se c'è qualcosa eh a cui sei particolarmente legato che ci vuoi far vedere perché comunque queste dirette sono fatte principalmente per far vedere un po' di roba che abbiamo a casa negli armadi noi ci abbiamo costruito un evento intorno una volta l'anno per dire al cuore sta roba tu sei partecipe dal giorno non uno ma zero quindi facciate qualcosa che c'hai tu a casa ma guarda allora vabbè a me tanto la faccio una mini mini introduzione proprio micro micro ehm tanti per fortuna mi conoscono di quelli che ci stanno vedendo tanti mi conoscono da tempo come te eh abbiamo vissuto un sacco di cose insieme eh tu guarda la mia diciamo malattia io la chiamo malattia in maniera simpatica nasce tantissimi anni fa io mi sono avvicinato a un negozio che stava qua in zona io sono di Roma sono di Ponte Verde un quartiere di Roma Sud Sud Ovest eh c'era questo negozio che si chiama General Store che ancora esiste il grande Alfredo che saluto che non vedo da tanto tempo ma saluto eh lui è stato uno dei primi a Roma insieme a tante altre persone che dopo magari avremo tempo di citare a portare quello che è stato un po' diciamo il primo le prime le prime appunto i primi avvistamenti di di chiamiamolo streetwear perlomeno qua nel quartiere si parla di Carat Stussi mi ricordo al tempo Criminal Savier Gravis S America Ethnis eh quando ci siamo avvicinati noi a sta roba c'era proprio totalmente tutt'altro c'era Paul Frank che stava proprio in auge eh io da piccolo piccolino quattordici quindici anni i primi brand a cui mi sono avvicinato sono stati Carat North Face eh Stussi poi c'era la questione dell'appartenenza a scuola no? A scuola quando eravamo piccoli noi c'erano i coatti le zecche i pariolini più o meno era quella la 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 storia quando io sono arrivato al liceo che era circa il duemila 2001 eh c'era c'è stato un mezzo miscuglio non si sa perché a un certo punto di i secchi i pariolini si strizzavano sempre un po' l'occhio no? eh e noi stavamo in mezzo a sta cosa non si capiva bene mai e e niente io li ho cominciato a comprare ho cominciato a comprare ho cominciato a comprare a Stussi ho cominciato a comprare a Carat naturalmente poi i soldi dei miei genitori perché c'ho 14 anni quindi non nascondo ho cominciato piano piano appassionato a questa roba poi eh durata anni ho avuto la fortuna di avere una buona parte della mia famiglia che viveva negli Stati Uniti quindi ho avuto accesso a un sacco di cose ho viaggiato un sacco quando ero piccolo e e niente piano piano io oggi ho tirato fuori un po' di cosette questa penso sia la prima maglietta di Stussi che ho mai comprato nella mia vita l'ho comprata appunto da Gianna Storm me l'ha comprata mia madre me la terrò per sempre naturalmente non mi entra più manco su un braccio però che taglia era questo Andre? ma guarda io penso roba è 2002-2003 una semplicissima crew logo di Stussi niente ma che taglia era Andre? M? guarda penso L già perché non sono mai stato secco manco da piccolo quindi purtroppo già ti parlavo di L poi io negli anni ho comprato tanto una delle cose che mi ha legato tantissimo a alla passione per lo strittore è stata sempre l'arte c'è chi ci è arrivato con la musica c'è chi ci è arrivato con lo sport col basket c'è chi ci è arrivato tramite secondo me questa cosa te la dicevo pure ne avevamo parlato no? io sono arrivato a sta roba principalmente appunto primo perché sono sempre stato un curioso secondo me la cosa che lega parecchi di noi che stanno in fissa con sta roba è che siamo tutti mega curiosi cioè siamo dei malati stiamo là vediamo cercamo tutta una cosa di ricerca continua eccetera eccetera no? io io personalmente non ho mai fatto i graffiti quando ero piccolo perché ero spastico sono tuttora uno spastico a disegnare non so a disegnare manco una macchina o un cane però stavo in fissa ho sempre guardato amici che li facevano mi cercavo le cose mi compravo le prime fanzine c'era L al tempo c'erano i primi giornali e comunque mi sono appassionato tanto ai graffiti una cosa che ha poi combinato la grossa passione con questi brand perché la maggior parte di questi brand lavoravano e lavorano tutt'oggi con gli artisti quindi ecco poi negli anni ho avuto modo di comprarmi un sacco di roba legata agli artisti questa è un'altra t-shirt testussi che non apro perché non c'è bisogno pure questa è una L questa è una maglietta che testussi ha fatto nel 2007 con Dazze che è un king di New York con scritto hot dog Dazze vabbè stupenda pezzone col canetto l'hot dog appunto rappresentativo col cappellino questo è un pezzo pure a cui tengo tanto grande trabole Andrew questa è una maglietta che stussi ha fatto con Ghost sempre nello stesso periodo se vedete dal tag questa pure è presa a Roma Andre guarda in realtà la sculata la sculata è stata che come tanti sanno tu si ha i siti divisi no? c'ha un sito europeo, un sito americano, un sito asiatico naturalmente quando tu vai sul sito te vede lì pp vede da dove sei connesso e te puoi comprare solo certa roba avendoci avuto cugini negli states eccetera eccetera io riuscivo a farmi via la roba da loro spesso e volentieri e farmi la manda' o semplicemente gliela facevo prendere, gliela facevo accumulare poi quando andavo io là all'estate ritiravo tra virgolette stavo là, prendevo eh, continuavo a comprare come uno psicopatico e vabbè bella svolta, i tempi erano diversi no? che dici amico scusa? bella svolta, nel senso i tempi erano diversi quindi pure super svolta, non viaggiava ma frate, super svolta non ci avrei mai potuto avere accesso a un sacco di roba che c'ho senza sta cosa, impossibile non c'era facebook, non c'era niente, c'era messenger ma chi cazzo dà comprava la roba? cioè nel senso certo non c'era paypal un'altra era, non lo so, era diverso io, ti dico, il primo profilo ebay che mi sono fatto era il 2004 ancora ce l'ho, ancora uso fatalità si chiama stussi 04 e me ce l'ho comprato il mondo però perché dei bei mi fidavo, capito? che soglia di però insomma al tempo c'ho avuto pure sta mezza sculata di averci la famiglia là mi zio, mi zia, mi madre che stava sempre in connessione con loro quindi io gli dicevo oh mi serve questo, vedo i sordi questa, quella che ho fatto te prima come ti dicevo è una moglietta che loro hanno fatto Ghost Ghost è trabo l'endio, è uno che poi è un grande pazzo, mezzo visionario a me mi ricorda, mi fa sempre pensare un botto a Dottor Romanelli perché sono queste figure tipo Seth Price queste persone mezze matte e lui ha lavorato pure con Gucci pochissimo tempo fa poco tempo fa ha fatto un sacco di roba poi so che c'ha degli amici dell'amicizia a Roma e viene a Roma se a Trastevere ci stanno pure delle serrande delle robe sue abbastanza recenti delle 4, 5, 6 anni fa fighissime che poi uno non ci pensa però c'è stata la roba del Ghost a Roma assurdo questa è un'altra maglietta dello stesso periodo è una maglietta a cui tengo particolarmente perché questo è uno sketch di Dondi Dondi che è morto Rip, Rest in Peace King vero è stato diciamo Dondi White è stato quello che ha fatto sì sia a Martha Cooper eccetera eccetera tutti quelli che l'hanno portato nel tempo ha fatto sì che i graffiti diventassero qualcosa in più di quello che che erano al tempo è stata una figura un sacco importante poi Corrello è morto super giovane e Stussi appunto ha lavorato un sacco ma proprio un sacco con questa gente Andre c'è un ragazzo che dice che conferma Bello Matto ha dipinto con lui a Roma beh bella storia King cazzo non so chi è che ha dipinto con lui a Roma ma King vero bella storia anzi se ti invito se c'hai qualche foto di quella di quella storia lì mandacela magari ce la mani magari ce la mani magari ce la mani sì io ho avuto la fortuna poi anni dopo di conoscere un po' dei figure dei graffiti un po' grazie al nostro grande amico in comune Massimo proprietario fondatore della Galleria Vazzi se non la conoscete andatevi a vedere tutti i profili della Galleria Vazzi immediatamente che ha portato a Roma a Blade ha portato a Roma a Scheme insomma figure importanti addirittura è partito se ti ricordi lui è partito è partito con Scheme lo ricordo bene guarda Scheme no ma a Blade sono andato a Piaio all'aeroporto quindi ti dico che insomma me lo ricordo bene quel periodo sono state cose fighissime io ho goduto come una bestia non pensavo mai di poterli incontrare nella vita però figo figo grande storia grandi grandi veramente grandi veramente e un'altra roba interessante che ho a cui sono molto legato sempre per rimanente Marte è questa roba qua una due queste non ve le apro raga poi magari insomma ci sarà occasione per chi vuole le manda un PM io le mando ste tre magliette sono tutte 3DS voi direte questo sta male ho dei problemi effettivamente è vero sono tre magliette che ti sei bloccato Andre non so che cosa c'è la connessione romano italiano che adesso vive in Olanda Amsterdam si chiama pane fecero pure questo libro qua insieme fecero sta piccola capsule che comprendeva appunto il libro fecero un evento uno show e ste tre t-shirt a cui io sono particolarmente legato perché lui fa parte di una crew di Roma e si chiama DRV The Riot Vandals The Renegade Vandals tu li conosci bene insomma come li vogliamo chiamare vogliamo chiamare non potevo proprio mai pensare che una cosa a cui ero così tanto legato della mia adolescenza perché mi ricordo io che staccavo con roscio e adesivi a fermata dell'autobus col cappellino del pane per portarmi a casa attaccarmi sul diario arrivà a questo per me era impensabile quando è successo me l'ho quasi messo a piagne è la cosa a cui sto strano me le metterò mai le incornicerò tra l'altro infatti incornicero che forse è la cosa migliore Andre sì la cosa migliore è l'unica cosa che posso fare perché tra l'altro qualche anno fa prima che andassi via da casa dei miei è successa una tragedia questa e un'altra tipo un mezzo ferretto di un cassetto mi si è incastrato non me ne ero accorto e quindi aprendolo e chiudendolo mi ha fatto due tre mini buchetti su due t-shirt vabbè puoi immaginare infazzire puoi immaginare la reazione ma non ne parliamo tenti salutiamo salutiamo il pane e salutiamo pure il panda che faceva parte salutiamo il pane salutiamo tutti Nico tutta la crew io ho avuto la fortuna di grande Nico un po' di settimane fa mi ha risposto su Instagram e mi sono riuscito a comprare la loro sciarpa che un po' di tempo fa hanno fatto una sciarpa della posse bellissima che ho scritto The Red Band insomma la volevo troppo stavo in fissa caspare sa di cosa parlo tra l'altro il pane c'è anche una roba con Adidas guarda ce lo stavo per dire scusa 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 lega con quelle maile questa cosa bravo bravo che se non sbaglio fu una roba che abbiamo fatto da Footlogger dove abbiamo fatto sta roba no da Pandemonium da Pandemonium no io andai su io però andai su a Milano perché fecero anche un evento a Milano io mi ricordo da Pandemonium se non sbaglio se non sbaglio mi ricordo un Roma Pandemonium poi per carità sicuramente lo fecero confermo confermo insomma niente vabbè Sussi è un brand che veramente mi ha cambiato no la vita però il modo di approcciarmi a ste robe c'è un sacco di cose regà musica maglietta di music bellissima tutti i deluxe con Green Slips Records questa è una cosa pure che non potevo assolutamente perdere pure questa ma in essa sta lì nell'armadio da secoli questa è una chicca fammo pure un saluto uno shout out gigante a Fausto De Smooth King Fausto questa me l'ha data lui regà grande Fausto San Francisco chapter questa è una cosa che ci volevo troppo a vedere tra l'altro sono quasi sicuro sia stata fatta da Bulldog scusa da che da Bulldog da porca mignotta tu vabbè non mi viene il nome ma forse un po' di memoria comunque scusa André da West Hampton quella una grafica di West Hampton sono quasi certo che è il tizio che fece pure le vans vabbè le syndicate un artista grosso insomma non proprio l'ultimo arrivato dimmi salutiamo Fausto dico salutiamo Fausto di Smooth assolutamente tra l'altro possiamo definire essere uno degli OG italiani per eccellenza insieme anche a Luca Penini Simone Bivole e poi gli altri per me Fausto è tipo il king vero cioè il king assoluto proprio ma non per niente perché è proprio un altro livello cioè stiamo a parlare proprio di un'altra generazione di un altro livello un'altra storia altri tempi Andrea altri tempi inutile è una di quelle persone è una di quelle persone che potrebbe aprire tranquillamente il garage e fare un museo open per tutta Italia perché penso che ha della roba incredibile quella maglietta che tu ho appena fatto vedere l'abbiamo scambiata a Ginnica pensa te bene bellissimo bellissimo senti Andre una cosa prima che continuiamo a far vedere un po' della tua roba tu hai raccontato delle magliette hai fatto vedere della roba che sono di un periodo storico ovviamente non recentissimo ma qual è il tuo periodo storico che ricordi con più passione e amore è questo di questa roba o un altro oddio se ti dovessi dare una cosa temporale è difficile nel senso che io sono sempre stato parecchio fissa con questa roba periodo che mi ricordo più felice più figo di questa roba probabilmente è legato pure alla questione scoperta continua ricerca scoperta cosa che adesso esiste ma in maniera molto diversa perché è tutto molto più accessibile quindi ti direi boh 2005 2012 2005 2010 boh questa fascia qua più o meno se ti dico a livello di questa roba qui sicuramente gli ultimi 5-6 anni sono stati molto vivi perché la cosa si è allargata tantissimo sono subentrate le community di Facebook una decina d'anni fa insomma gli ultimi 5-6 anni sono stati molto molto vivi cioè molto spinti è vero è vero è vero senti un'altra cosa Andre tu sei una di quelle persone che è sempre riuscito a tirar fuori la meglio svolta piuttosto che il pezzo da paura trovandolo negli outlet hai sempre girato per outlet non l'hai mai nascosto è una cosa molto figa secondo me anche molto americana se la vogliamo dire tutta c'hai qualcosa da farci vedere che hai preso in qualche outlet sì sicuro guarda la cosa è figa la domanda molto interessante ma non è non è solo l'outlet io ve la faccio vedere una scarpa c'è una scarpa che ho preso in outlet anni fa che magari ci attacchiamo pure un po' di roba un po' di roba interessante allora la questione è che secondo me oltre al fatto che è figo io ho avuto amici una ex che ha lavorato all'outlet insomma è proprio figo andare in giro cioè secondo me sta a casa e comprasse tutto su internet può essere figo da una parte perché è comodo va bene però non vedi più la roba non la tocchi non te la provi non la cerchi non troverai mai una roba che non pensavi di trovare io all'outlet ci ho trovato le cose più impensate in Nike da tante altre parti Nike soprattutto c'è proprio la roba fuori dal mondo e mo oggi purtroppo io sto questa che vedete dietro è la mia nuova casa quindi sto ancora un po' in una fase di traslogo poi questo cazzo di virus non si capisce tra l'altro Andre ci hanno scritto ci hanno scritto se stiamo nella stessa casa perché abbiamo gli stessi mattoncini di dietro sì stiamo nella stessa casa esatto stiamo tipo uno davanti uno dietro con due pareti capito tipo stupendo è vero però cazzo vedi chi è Alan salutiamo Alan bella frate grande Alan che ha definito l'outlet king guarda sei uno di quelli che ha comprato di più questo l'ho trovato in outlet io ho sempre avuto una psicopatia per la roba da tennis questa è una cosa che mi porto avanti da quando avevo 15-16 anni che comunque ancora non stavo così tanto un fottato un fissa con le scarpe mi ero comprato i silver perché tutti avevano i silver nel 97 le galaxy al tempo ci dovevano i galaxy c'erano le prada le america scap e io mi compravo le Perry Ellis Andrea Perry Ellis Perry Ellis Perry Ellis prima però stiamo a parlare ancora un po' prima e io mi compravo dei continuo tennis classic court classic tennis a bianco e le sfonnavo a scuola le distruggevo poi andavo e me le ricompravo le sfonnavo e me le ricompravo poi negli anni questa cosa mi è rimasta me le sono sempre comprate e a un certo punto ho cominciato a farle i roci quindi capirai meglio di così se more questa l'ho distrutta c'erano tante che ho distrutto sentite pure questa l'ho proprio crepata ma proprio del brutto questa è un po' più vecchiotta di quella che ho fatto prima era quel pack che c'erano tre o tre quattro e pure questa naturalmente non all'altro non mi ricordo comprata in saldi a due spicci ma poi negli anni ne ho comprate tante tra l'altro questa l'ho appena ritrovata su ebay ts pure a un bel prezzo molto probabilmente ma la comprerò questa è una delle sorelle del pack nuova per ditte che ho preso un po' di tempo fa ancora non l'ho messa a me me fanno questo era il periodo che si si era il periodo che i roci faceva le scarpe tutte bianche e cambiava solo il tallone o solo il braccio questo è il 2014 questo è il 2014 se ci penso che sono manco troppo tempo fa ma pure sta roba in tanti paesi nel mondo andava a finire gli outlet non sa la contava nessuno una cosa di cui sono molto contento so queste questa non l'ho presa manco troppo tempo fa tu hai tra l'altro favo un grande saluto a Marco Rizzi che ieri che ieri si è fatto la l'ID dell'Air Force One l'Air Force naturalmente questa non è quella super matta che c'aveva il box incredibile però a me mi ha sempre fatto impazzire l'ho trovata una cifra ridicola due o tre anni fa sui guarda di roba da tennis loro ce ne ho tanta questa è la cosa che ho sempre goduto di più questa forse è la più bella che hanno fatto proprio senza dubbio secondo me a parte che le match classic non le facevano mai qua una certa un paio d'anni fa sono rispuntate questa è un po' più vecchiotta e poi non si è mai vista una roba stampata sulla midsole così cioè io non l'ho mai vista proprio questa c'era pure arancione c'era pure bianca se non sbaglio ce ne fecero un po' dei colori super matti naturalmente non si trova più sta roba perché è un po' più vecchia ma quando si trova si trova pure a cifre veramente ridicole su io giro tanto ma a parte gli outlet io giro un botto su internet compro una cifra su ebay da anni ma proprio da anni e ho trovato un sacco una cosa dell'outlet è interessante ma è bello secondo me andare in giro cioè questa questa la dedichiamo al mio amico Francesco Paone questa io l'ho trovata è un negozio di sport a Roma solo esclusivamente perché sto in fissa che vado in giro e chiedo cerco e guardo DS mai messa 1991 e via aspetta un attimo perché c'ho pure quella nuova naturalmente c'ho pure quella nuova e devo dire che è pure tenuta bene eh facciamo scopa grande 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 ma questa è tutta una cosa che succede perché perché uno va in giro cerca chiede guarda io non mi faccio mai cazzi mia come si dice a Roma non camperò a cent'anni di conseguenza però non me ne frega niente mi piace mi piace vedere mi piace che conosce scherzi a parte senti Andre allora una cosa mi attacco dimmi no mi attacco io a una cosa che hai detto tu prima hai nominato General Store che era uno dei tuoi negozi del cuore dove sicuramente hai iniziato a prendere le prime cose con cui si è cresciuto mi attacco a questo perché voglio dire la mia nel senso che in quello stesso periodo più o meno anche se sono un po' più grande su Roma c'era anche Age Street che era sul quadrante di San Giovanni a Pionatino salutiamo Renatino e salutiamo Caccia che sono stati due pionieri anche loro e se ci ripenso oggi loro in combo con Slanjam di quei tempi sono stati per quanto mi riguarda uno dei periodi più belli in assoluto io penso che io su Roma senza dubbio grande citazione grande Renatino mandamogli un saluto però è vero Age Street era un punto di riferimento un negozio incredibile io mi ricordo ancora siamo andati insieme quando stavo chiudendo ci siamo provati della roba assurda ci aveva il negozio sotto siamo andati giù ti ricordi roba fuori da roba giacche stussi giameica mi ricordo pantaloni maraischi roba undefeated fuori di testo fuori di testo a tal proposito a tal proposito Andre scusami se ti interrompo era probabilmente il 2003 2004 io riuscii a prendere Dust and Jam ma quando andai proprio su in negozio la mia prima visprim che ce l'ho nel cuore che è una Kiefer Law mi prendevano tutti per il culo per questi per questi fiorellini qua mi prendevano per il culo bellissimo ma soprattutto da Renatino che conservo ancora con il cuore madonna che buono che buono su prima la compravo a San Giovanni da H Street adesso è diventato quella hai tirato fuori la James Brown quella giusto? guarda oggi mentre cercavo il sistema tax records ancora così spuntano ste robe dagli armati si sta roba la compravamo guarda io direi che a sto punto sarebbe opportuno palla una piccola comunque citazione pure una questione di rispetto a tutti quelli che hanno composto qua la squadra di cui parlavi tu che oltre a essere Renatino e Alfredo sono stati Simone De Bicull sicuramente che noi conosciamo bene entrambi sono stati Stefano anche ieri con Cristiano pure Stefano De Paris Stefano Andrea di 40 gradi Stefano Andrea di 40 gradi insomma vabbè ci abbiamo per fortuna noi abbiamo avuto delle figure che hanno fatto sì che questa città avesse comunque un livello già altissimo tanti anni fa io mi ricordo che già Roma nel 2006 se sapevi dove andare c'era tanto 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 da vedere per assurdo noi siamo scaduti col tempo ma mi auguro che la città ritorni a quei livelli un po' come il latte no sì me lo auguro pure io Andrea sono i tempi che cambiano io non voglio fare il cacacazzi della situazione però adesso è molto diverso è molto diverso il campo della vendita e quindi naturalmente le realtà del genere non so non so più quelle di una volta ecco sono diverse grande grande Stefanino De Paris però tu Andrea hai detto ha venduto questa non so da dove l'ha tirata Stefano De Paris tipo dei c'ha il coso c'ha non so Made in USA c'ha ora 25 anni sta camicia è un patchwork fatto a mano incredibile mai visto ha preso ha tirato fuori tipo da un armadio Andrea se vuoi questa ce l'ho dai se ti piace stussi eroe vero guarda loro veramente guarda ce l'ho nel cuore ce l'ho nel cuore poi il negozio per assurdo a cui so più legato proprio per una questione per una questione d'affetto insomma di tempo passato insieme tu lo sai bene è stato citato pure ieri più volte Urban Star io diciamo che Andrea che saluto tanto è è stato un mio è ed è stato un mio mentore se vogliamo dirla così perché facciamo i giovani Andrea facciamo i giovani mandiamo un cuore a ciò insieme mandiamo un cuore a ciò vabbè a me ciò mi ha preso mi ha preso se vogliamo dirla così sotto la sua ala quando c'avevo 18 anni sono entrato là dentro la prima volta e c'avevo 18 anni siamo diventati subito amici lui mi ha mi ha guidato nel tempo ci ho lavorato un po' di tempo in amicizia con loro per due o tre anni quando facevo l'università e praticamente là dentro poi ho imparato e ho messo un po' le basi da solo da pischello poi là dentro ho imparato un sacco di roba ho visto sotto comunque devo citare Ripple Made e Powder che erano due grandi negozi quando eravamo piccoli grande Gianluca ma certo che ce li ricordiamo grande Powder che stava lì a Prati via de Scipioni se non sbaglio mi ricordo che c'era chi era che suonava Pester dentro che suonava Big Pino eh ogni tanto sì ma io ero più legato a Gianluca a Gianluca e Ruena di Ripple Made ma io pure Ruena mi ha visto cresce considera che noi quando eravamo piccoli il sabato morigio si andava a fa a passeggiare al centro si andava ad Agile da Young a fa i coglioni là fuori no e poi ti facevi il giretto per i negozi Ripple Made era tappa fissa a noi Ruena ci ha visto crescere ci ha proprio visto crescere tra l'altro a proposito dei Stussi del 2005 eccetera eccetera c'ho una cosa figa che volevo farvi vedere perché ho visto che Tony Riccio ha commentato e lo saluto pure me l'aveva chiesto l'altro giorno oggi l'ho tirato fuori a proposito del 25esimo e questo pensa questo è stato comprato nel 2005 appunto l'anno del 25esimo che io facevo 18 anni me l'hanno regalato i miei migliori amici per il compleanno dei 18 anni ora sta senza batteria devo rimettere la batteria un po' che non lo uso però pensa la malattia già a 18 anni capito gli amici miei sapevano che forza la più bella cosa mi potevano regalare questa io sono rimasto ancora mi ricordo la faccia che feci sono rimasto come uno stronzo much love è il più felice del mondo è il più felice del mondo più felice del mondo poi qualche anno dopo sono riuscito a prendere pure questo questo me lo so comprato io non mi ricordo dove come perché online probabilmente questo è un altro è l'altro modello quello un po' più piccolo il gv560 mi sa questo si chiama e non so se questo era per il trentesimo in realtà lo dico la verità ma penso di no penso di no dall'altro per il venticinquesimo anniversario di Stussi ci siamo ormai facciamo le cose fatte bene Stanno è il quarantesimo comunque tanti auguri al nostro brand preferito questo è incredibile questo è Levis no questo è Stussi per i venticinque anni insieme a Levis che fecero pure il jeans Silver Edition tra l'altro mi ricordo ancora non so se lo potete vedere queste cuciture qua io ce l'ho un jeans di Levis per Stussi ma non è questo questa è fatta con le cuciture d'argento per l'anniversario oltre a essere ovviamente anche un jeans cimosato e poi di misero che era una cosa che mi fece impazzire sulla patta la doppia targhetta Stussi e Levis insomma un bellissimo ricordo questo era un 500 questo è un lo dico subito oddio ma penso sia un 501 io c'ho un 505 che fecero mi pare il 2011 il 2012 non riesco a vedere qui il modello però se si credo sia un 501 guarda io volevo volevo approfittare per farti vedere una cosa sempre rimaniamo un tema astuzzi a questo punto stiamo stiamo su sta linea vai vai per fare anche un grosso saluto al nostro amico Fabrizio Beethoven che tra questi giorni ha deliziato tutti con grandissima musica e che qualche tempo fa ormai non mi ricordo quanto ha mi ha avuto la fantastica idea di mandarmi la foto di questi e io ho detto adesso se non me li vendi mi tocca ammazzare qualcuno e questa è una roba proprio fuori di testa un occhiale di stussi di original fake di poco prima che original fake poi Brian ha deciso di chiuderlo e una chicca clamorosa c'è dentro c'è scritto cause qua dentro cioè qua guarda qua bellissimo una roba fuori di testa grande Fabri mi hanno un bacione proprio enorme ci siamo sentiti tra l'altro qualche giorno fa poi in realtà un'altra grossa fissa che ci ho avuto nel tempo che proprio non mi sono mai riuscito a togliere sono i pupazzi io li chiamo pupazzi sono i toys sono quelli che all'inizio si chiamano Vinil Figur sapete che parapà no non l'ho comprata la Nike Pestussi oggi non mi piaceva i pupazzi arriviamo a 40 anni ma sempre ci piacciono arriviamo a 40 anni ma guarda per quanto mi riguarda i pupazzi mi ricomprerò per sempre tra l'altro guarda sempre in tema venticinquesimo questo è ancora sealed ce l'ho da 15 anni perché 2005 è ancora chiuso ed è praticamente dentro stanno tipo non so se 12 15 20 foto testussi tutte tipo dello shooting che fecero la collezione per venticinquesimo che poi incorniciare poi non ho mai aperto non lo so vabbè a collia non lo scopriremo mai esattamente esattamente e niente tra l'altro appunto sempre in tema astuzio vabbè le toys loro non hanno fatti una valanga ma una valanga negli anni questo lo conoscono tanti grande Jadilla rest in peace King Jadilla questo è un toy che ho trovato dopo qualche tempo di ricerca me lo so comprato proprio subito a cui sono veramente molto legato questi questi pensa questi qua fanno parte di quella roba di cui parlavamo prima che uno se cerca chi cerca trova queste sono dei toys di medicom che hanno fatto insieme a Stussi un secolo fa io penso roba di 2002 2003 veramente tanti tanti anni fa sono delle doll giganti che ho trovato cercando online scrivendo Stussi un toy da un ragazzo di Roma che è stato un eroe tutte e tre le colorway a due spicci ma tipo roba di boi avrò dato 100 euro per tutti e tre i toys una cosa ridicola e appunto i pupazzi sono una bella rota una cosa veramente greve naturalmente come sempre prima ne facevano di più mo ne fanno di meno la cosa si è un po' spenta negli anni però diciamo che io la cosa dei toys ce l'ho sempre avuta ma proprio sempre sempre visto che siamo tutti grandi amanti delle scarpe questa è una chicchetta questi ognuno ha numerato non so se sono tipo però sono sbariate migliaia di pezzi questo è un progetto che fece quel malato psicopatico di Mark Parker di Nike nel 2000 2001 lui sta molto peggio di me molto peggio di tutti noi collezionista stanno fissa con l'arte con il surrealismo con tutta sta roba strana se compramo un botto di roba vabbè senza comprarlo non sa comprare nessuno e nel 2000 mi pare nel 99 contattò sta tizia americana che si chiama Randy Bowen e fecero due serie di scarpettine incredibili mai viste fatte a mancia a mano ma non lo so ne dubito però fatte comunque di ceramica non so roba di plastica ne fecero alcuni 3000 pezzi alcuni 6000 pezzi io queste le ho trovate nel tempo però costicchiano per il momento mi sono comprato solo queste però è una cosa che veramente mi piacciono da morire come puoi ben vedere sono molte le categorie di cazzate che nella vita ho deciso di comprare e su cui spendere soldi però i pezzi sono una cosa a cui sono molto molto legato il nostro grandissimo amico futura non ve ne ho parlato zero fino adesso io ho una grossissima passione sono un grande suo fan a prescindere da tutto dal lato artistico della roba che ho sempre fatto ha comunque fatto un botto dei progetti poi ho aziende che mi piacciono eccetera so che stai andando a prendere qualcosa e mi farà bestemmiare Andrea già lo sai Andrea beh sì da come ti sei alzato maledetto questa è quella che mi fece autografare da James Lavel a Ginny oggi ho mandato la foto a un pischello oggi ho mandato la foto a un pischello a un amico che grazie a te lui scelcarlo lì a Ginny che mi aveva firmato il libro di Mowax mi sa un paio di dischi grande James ci eravamo fatti pure la foto veramente King vero ma guarda questa è una chicca che ho riuscito a trovare per casa che mi sembrava proprio il minimo che dovevo comprare non so dove cazzo l'ho trovata non me lo chiedete non me lo ricordo molto probabilmente su un gruppo di Facebook tipo la placca in ferro proprio da store tipo capito caccia e pesca stupendo questa la puoi attaccare su quel muro di mattoncini che c'è dietro che non è male che non è male come idea stavo pensando non vediamo non vediamo questo è una delle cose molto 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 legate forse è la cosa che ci tengo di più infatti quasi mi è uscito dalla scatola questo è Ben Hancol chi conosce bellissimo è una serie che lui fece con 360 Toy Group che è un gruppo di americani pazzi di pupazzi scusate il gioco di parole questo l'ho preso nel 2014 stavamo a New York con la mia compagna e penso ci stia guardando che tu conosci molto bene stavamo camminando tipo io ho fatto il vago stavamo mezzo in giro per solo ho detto spero voglio andare a vedere un negozio di Toy ne sa che sta qua vicino alla fine siamo arrivati la fortuna vuole che lei stava al telefono con un'amica sua di Roma quindi io sono entrato mi sono messo là ho guardato 3000 cassi 3000 cose stavo a comprare un pupazzetto piccolo così tipo di Ron English microscopico e ho detto vabbè dai questo va bene finché sono arrivato in cassa ho tipo fatto sotto la cassa ci stavano tutti sti sti ancol sti inosperato giganti del futuro ho fatto mazza belli questi insomma quanto viene questo quello è 99 dollari capirai ma che cazzo stai a dire ho detto mi fai sì non fai un culo ma dammelo subito idiota quindi vabbè ho preso sta cosa siamo usciti dal negozio e tutto questo Veronica non si era accorta del cazzo dopo un po' mi guarda e mi fa ma che cazzo ti sei comprato mi ha comprato un pupazzo calcola c'è la scatola è un trolley ti dico solo che il trolley piccolo ho aperto ci ho messo questo era finito il trolley puoi capire gli urli cioè le risate la cosa bella ti sei portato la cosa bella ti sei portato a casa un pezzo un pezzo iconico che assolutamente tutti tutti quanti vorrebbero Andre a proposito di cultura e a proposito di ricerca ne faccio un'ultima cosa questi per dirti li ho trovati su ebay li ho pagati una cazzata sono due gardener tu naturalmente sai chi è Michael Law però tanti forse magari delle nuove leve non lo sanno perché negli ultimi anni è un pochino è un pochino perlomeno nei paesi occidentali è un pochino passato in secondo piano in Asia ancora spigne tanto questi sono due toy che lui ha fatto in realtà sono due rappresentazioni di Michael Law e del futuro proprio di lui di Lenny che non mi hai mai pensato di trovare invece uno cerca cazzeggia io non dormo mai la notte scavo su ebay e vedi Veronica ha scritto ti volevo uccidere ti volevo uccidere sì sì tra l'altro Michael Law mi fece una delle scarpe che fecero più scalpore se ti ricordi quelle con il pupazzetto della BMX bravo bravissimo quella gialla con le fiamme pazzes sgravata quella che te la davano col pupazzetto non mi ricordo però perché fece lo scalpore fece lo scalpore vabbè perché in quel periodo ancora non è che c'erano delle release che ci sono oggi quindi che so da Fly Club era una di quelle scarpe che tutti volevano sta blazer capito che poi uscì quella col coso uscì quella col coso del latte che te la davano nello special pack era il coso del latte bellissima pure quella sì sì missing con scritto dietro questi termini molto eh non mi ricordo il nome c'è chi dirà cazzo ma quella si chiama così eh sinceramente raga non me lo ricordo proprio tra l'altro la cosa figa che c'ho ah scusa Andrea è arrivato il professor Marco Rizzi buonasera dottore che subito dottore salve che subito ha messo i puntini su lei effettivamente sì l'Olimpiadi di Pechino nel 2008 bravissimo molto bravo molto bravo sapevamo che Marco ci avrebbe dato la giusta risposta eh certo per forza una cosa che sto in fissa greve sempre per parlare di futura questa è una roba che fece penso nel 2000 o nel 2001 insieme a New York pensate che cazzo stiamo a parlare proprio il paleolitico la preistoria e il pack comprendeva questo che era una specie di giacchetto che io c'ho nel camo bianco e poi c'era tutta la roba nel camo invece così c'era la camicia spaziale sta roba è fuori da testa cioè non la faranno mai più e poi c'era la maglietta regà che c'era la maglietta calcola sussabile pesa pesa tipo una bottiata di peloni piena se te la metti d'estate penso che devi chiamare 118 c'è altro che coronavirus allora calcola c'è un aneddoto c'è un aneddoto su questa collab che però la racconteremo con uno dei prossimi ospiti domenica che è Andrea Piantone che trovammo che trovammo in uno store poi racconteremo che aneddoto c'è dietro a questa collaborazione che era stupenda poi Zuyork è uno di quei brand che all'inizio ti sei scordato di nominare ma con cui siamo mi dispiace di averlo dimenticato però ce ne siamo passati tutti insieme a Fresh Jive pure Fresh Jive vabbè ci siamo scordati per voler far proprio gli onesti pure i grandi del tempo che sono stati Carcani Marcheco insomma è inutile non citarli tra virgolette perché hanno fatto parte alla Gratton ti ricordi Sairaz pure Sairaz pensa l'altro giorno mentre aprivo scatoloni roba in tutto questo marasma del traslogo è spuntato un maione che comprai da Chommi a Rubanstar appunto quando avevo ai primissimi tempi mi ricordo tipo 10 fili di lana con questo maione pauroso che costava un miardo loro facevano sempre queste robe fuori dal comune però sì che brand cazzo pazzesco mi ricordo che era una certa lo vendettero a dei giappi e poi è sparito poi è sbanito sì 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 sbanito proprio bene senti Andre noi abbiamo sforato come anche abbiamo sforato ieri siamo quasi arrivati a un'ora di diretta però diciamo ti ringrazio per questa chiacchierata ma guarda giusto perché ho l'orologio vicino sennò il tempo vola poi qui a tirar fuori roba facciamo domani mattina non so la gente se ci sei ma che stai matto ma che stai matto comunque Andrea ho dei seri problemi io ho tirato fuori proprio l'apocalisse tipo trappupassi t-shirt non so scatole stavo veramente in una situazione allora secondo me possiamo possiamo fare una cosa noi abbiamo un bellissimo calendario con tanta gente tra cui anche Marco Rizzi nei prossimi giorni Piantone ci diamo un appuntamento due così facciamo vedere tutto quello che non abbiamo fatto ma sì ma la voglia ma la voglia ma la voglia la quarantena la quarantena è lunga ancora c'è un cazzo da fare raga dimmi la sincera la verità quindi quindi super volentieri proprio Andrea super super volentieri famose sto brindi sì Andrew alla tua bro aspetta che la bottiglia è vuota però il bicchiere è pieno alla tua alla tua alla nostra a tutti i ragazzi che ci hanno seguito grande una cosa importante mega saluto a tutti mega saluto a tutti mega saluto importante allora l'hashtag che abbiamo creato per questi giorni è io resto a casa con Ginnica quindi usatelo se dovete condividere della roba e restiamo a casa facciamoci compagnia domani ci vediamo alla stessa ora con Sergio di Drag Fashion Club facciamo quattro chiacchiere anche con lui che è uno dei nostri amici quindi seguiteci Andrea io ti ringrazio ancora ma grazie a te grazie a te Andrea grazie a te super un bacio è veramente l'iniziativa figa a prescindere da da tutto bravi bravi sono mega contento e mai spoilerato che ci sarà il grande piantone che saluto e il grande marchetto che saluto e adesso teneremo fuori anche il calendario con tutti quelli insomma fino al 10 di aprile stiamo stiamo coperti con un sacco di gente interessante quindi ci sarà di roba da vedere molto 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 bene bravi e regà niente Andrea speriamo di abbracciarsi presto cioè non ce la posso proprio più fare no scherzo dai resistiamo 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 cerchiamo di stare tutti a casa regà cerchiamo di stare tutti a casa scrivetevi a Ginnega scrivetevi a Flames mi raccomando se ben scrivete almeno cerchete di rispondere a quelle tre domande che abbiamo messo che sono ridicoli rispondere pure un bambino e niente niente dai presto ti voglio bene un bacio grazie grazie a tutti ragazzi a domani ciao bella bella regà ciao ciao ciao